Un turbine di emozioni e suspense travolge le trame di Terra Amara, promettendo momenti di intensità senza uguali. Mentre Ilmaz e Zuleyla si preparano alla sfida della loro vita contro Unkar, i sentimenti si intrecciano in una tela intricata di intrighi e misteri. La vita di Unkar pende ora da un filo sottilissimo, intrappolata nel capanno avvolto dalle fiamme. Nel cuore dell'azione la furia disperata di Zuleyla sembra di non avere limiti. Prima di addentrarci nel cuore della trama vi chiediamo di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale. La gelosia e il sospetto di Ilmaz raggiungono livelli inimmaginabili quando egli diventa sempre più convinto che Unkar abbia tradito la loro fiducia, svelando il loro ardito piano a Demir. Senza indugi il giovane Akkaia trascina Unkar via dalla villa. Una pistola tenuta fortemente nelle sue mani tremanti dall'emozione. La matriarca è spaventata, cerca di placare l'ira di Ilmaz, sottolineando con voce tremante di non avere assolutamente mai rivelato nulla dei loro piani a nessuno e tanto meno a Demir. La donna è disperata, non ha più via di fuga, è bloccata, si vede già morta, bruciata. Per fortuna, solo nel momento in cui Unkar è a un passo dalla morte, Akkaia viene colto dai sensi di colpa e così torna sui suoi passi e fa uscire Unkar salvandola. In quel momento giunge sul posto anche Fecheli, che abbraccia la sua amata Unkar e l'accompagna a casa, visibilmente scossa. Appena tornata alla villa, Unkar però deve difendersi da un'altra minaccia. Infatti, si troverà faccia a faccia con Zuleila, che si dimostrerà pronta e capace di tutto. Zuleila è delusa, è nella sua auto, in lacrime e quando arriva in villa è veramente furiosa ed è in preda alla disperazione totale. La ragazza, dopo aver preso un coltello da cucina, dice a sua suocera di aver fatto un grosso errore a fidarsi di lei e accusa Unkar di averle impedì coronare il suo sogno con Ilmaz, di aver distrutto la sua felicità per l'ennesima volta, di averla divisa dal suo amore e di averle rovinato la vita, anche dopo aver acquistato la sua fiducia e dopo che la riteneva sua madre. Unkar cerca disperatamente di spiegare che non è stata lei a svelare il loro segreto a Demir e a nessun altro della sua relazione di quello che volevano fare, ma sarà tutto inutile perché Zuleila non le dà modo di parlare. In questa scena la disperazione e il dolore di Zuleila sono palpabili, ma lo è anche il dispiacere che prova Unkar nei suoi confronti. Quindi Zuleila non ascolterà una sola parola della matriarca e sarà pronta a stroncarle la vita con le sue stesse mani. Nel frattempo Gaffur, Sagné e Gulten assistono senza poter intervenire alla violenta e dura lite tra Zuleila e Unkar. La vita della signora Yaman è nelle mani della ragazza, ma proprio in quel momento irrompe in villa Sevda, un ingresso del tutto inaspettato e sicuramente non gradito in altra occasione da Unkar, ma in questo caso la donna chiarisce finalmente il colpevole di tutto ciò e si rivolge a Zuleila dicendo che Unkar non l'ha tradita, ma è stata Sermin a farlo. Sermin ha avvertito che Zuleila se ne stava andando. Sevda riesce a tranquillizzare Zuleila, mentre la matriarca la guarda in modo strano, quasi incredula a ciò che si trova davanti ai suoi occhi. Zuleila abbassa il coltello ascoltando le parole di Sevda. Sagné le leva immediatamente l'arma dalla mano e Zuleila chiede perdono a Unkar buttandosi tra le sue braccia come se fosse sua madre. Unkar la perdona e le dice di stare tranquilla mentre Sevda continua a parlare guardando negli occhi Unkar e dicendo che è una onesta esortando Unkar ad aiutare Zuleila perché capisce il suo dolore e ciò che sta provando, facendo riferimento a lei e a Adan a suo tempo. Sevda così se ne va e Zuleila continua a chiedere perdono a Unkar chiamandola di nuovo mamma. Mentre Unkar la esorta a non preoccuparsi, la madre di Demir è salva soltanto grazie all'intervento tempestivo e incondizionato della sua nemica di sempre. Le anticipazioni sono terminate qui, vi aspettiamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Al prossimo video!